Ethereum prende molta forza rispetto a Bitcoin che stenta in questa fase ancora chiuso nel suo canale discendente ragazzi dopo aver subito 1, 2, 3, 4 giornate negative oggi fa una candelina di respiro verde ma niente di che ragazzi non è neanche un'inversione di trend è solo una candelina di respiro mentre Ethereum sembra un po' più sdlanciato quindi se andiamo a vedere per esempio quello che è l'ultima fase di ETH quindi la struttura di questo ciclo mensile intanto è più evidente anche il fatto che sul minimo del 12 di maggio per quanto riguarda Ethereum sia iniziata questa nuova fase anche se utilizziamo le close e quindi eliminiamo le shadow che spesso per esempio nei mercati delle crypto possono essere un po' più difficili da interpretare vediamo che comunque da qui è iniziata proprio una nuova fase di Ethereum che addirittura ha un trend assolutamente lineare, un trend positivo e poi Ethereum soprattutto sta andando all'attacco di questo canale discendente al contrario di Bitcoin che vedete quindi sta tentando nuovamente l'attacco al canale discendente che blocca dai massimi di 16 aprile questa che era la fase rialzista iniziata sul ciclo di novembre lo sta tentando nuovamente di breccare questa zona qui mentre Bitcoin tutt'altro perché Bitcoin è completamente lontano bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi teremo insieme pochi sarà un video più corto del solito perché sono in viaggio e al di là di questo vi faccio vedere un po' anche quello che era il grafico del Ethereum BTC perché è un grafico importantissimo in quanto il grafico di cui abbiamo parlato anche tempo fa che potrebbe sancire un po' l'inversione di trend di quelle che sono le cripto nei confronti di Bitcoin quindi un aumento, un leggero aumento di forza relativa fermo restando che su questo argomento dovremmo comunque in ogni caso parlare un po' in maniera più approfondita perché non credo che nei prossimi anni si possa assistere a un alt season spregiudicata cioè senza che ci sia una sorta di cripto picking diciamo così quindi un po' una alt season che punta dovunque ma bensì secondo me l'utilizzo di una cripto picking e quindi la scelta di progetti che effettivamente possono avere una valenza economica in un futuro magari non troppo lontano può essere la chiave questa volta per questo tipo di logica però su questo argomento intanto fatevi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti secondo voi se avverrà una eventuale alt season sarà spregiudicata e indiscriminata cioè su tutte le altcoin oppure sarà indirizzata solo esclusivamente a determinati progetti e quindi la fase alt season un po' così da mercato far west viene eliminata e quindi non ci sarà in un eventuale prossimo alt season fatemi sapere cosa ne pensate voi confrontiamoci io ho un po' il dubbio ce l'ho di questa fase e credo che la maturità del mercato sia tale che probabilmente la prossima alt season non sarà magari così spregiudicata ma punterà solo su alcuni cavalli vincenti detto questo bisogna analizzare intanto quella che è la fase ciclica di Ethereum allora l'Ethereum ragazzi ha iniziato un nuovo ciclo mensile da qui che non sappiamo se ancora è il nuovo ciclo trimestrale in teoria non dovrebbe perché in teoria questa struttura dovrebbe appartenere al vecchio ciclo trimestrale che era iniziato a metà marzo e dovrebbe chiudere appunto entro metà giugno quindi questa fase qua questa è l'analisi ciclica quindi che ci pone un po' il dubbio su questo tipo di movimento invece l'analisi tecnica ci dice che è un movimento rialzista l'analisi ciclica ci dice fai attenzione perché teoricamente è qui che dovrebbe andare a chiudere il tutto quindi teoricamente dovremmo assistere a un fake breakout magari di questo eventuale trend per poi chiudere definitivamente questa fase qui anche su Ethereum attenzione però perché dalla chiusura del trimestrale eventuale quindi se è chiuso qui è già partito un movimento rialzista se invece chiuderà più avanti questo trimestrale potrebbe in effetti partire un movimento più corposo al rialzo e soprattutto misto a questo grafico qui che è il grafico di forza relativa di Ethereum nei confronti di Bitcoin quindi ETH, BTC il grafico dello spread insomma tra Ethereum e BTC unito a questo secondo me è da valutare in maniera molto attenta proprio in questi 10-15 giorni uno switch anche e un ingresso magari long su ETH a dirà dell'ingresso standard anche su Bitcoin però magari in maniera un po' con un position sizing magari maggiore rispetto al solito proprio perché se questo grafico brecca a un determinato livello che vi faccio vedere tra pochissimo allora indica una cosa estremamente rilevante proprio da questo punto ed è da valutare è un po' veramente un po' incerto perché c'è una cosa che non mi garpa però va valutata allora questa fase quindi ciclica di ETH è fondamentale soprattutto un eventuale swing che è quello attuale deve superare i massimi precedenti che sono posizionati intorno a 1930 circa quindi se questo swing riesce fa una cosa del genere e poi va in chiusura indica sostanzialmente che il trimestrale è stato chiuso probabilmente qui un trimestrale un po' cortino in 60 giorni di solito almeno 70 li fa però infatti un po' il dubbio ce l'ho ragazzi per questo motivo è anche vero che il precedente era molto lungo quindi ci può stare però se fa una cosa del genere questo mensile chiuderebbe al rialzo appunto al di fuori di questo secondo me non può andare al di sopra di 1930 cioè in sostanza questo movimento di oggi non so se durerà magari domani dopo domani che è il weekend dovrà andare subito in close in questo modo e soprattutto tentare una specie di doppio minimo con questa fase 1780 perché deve andare a chiudere tutto questo movimento magari con un doppio minimo addirittura un minimo inferiore a questa shadow la shadow è molto pronunciata 1737 quindi se fa una cosa del genere il movimento ribassista partirebbe a breve e sarà anche abbastanza corposo non so non mi sembra che ETH abbia tanta voglia di scendere vedo che è vero che i mercati in questo momento usufruiscono di un Nasdaq 100 estremamente potente cioè un Nasdaq 100 che ragazzi ha fatto veramente numeri incredibili questo ragazzi come si suol dire perché tra tutte le varie statistiche matematiche l'economia e l'analisi fondamentale delle stocks vedete cosa significa trend is your friend non c'era nessuno che avrebbe scommesso 30 euro sul fatto che Nasdaq potesse fare una cosa del genere dai mesi scorsi ragazzi e invece trend is your friend e quindi nel momento in cui il trend su questo livello è stato invertito l'unica posizione era e rimane sempre long fino all'inversione di trend stessa cosa ovviamente anche su Bitcoin ragazzi no trend is your friend quindi al di là delle strutture correttive una volta che è stato superato questo massimo anche su Nasdaq 100 il trend della comanda però è vero che è molto tirato poi deve andare in chiusura dell'annuale probabilmente tra qualche settimana e questo potrebbe spingere ulteriormente i mercati cripto perché nonostante questo sbalzo enorme di Nasdaq 100 né Bitcoin né Ethereum ne hanno approfittato perché addirittura Bitcoin vedete è estremamente chiuso nel suo canale ribassista che è molto feroce ma fa anche parte di quella che è la close del ciclo semestrale di Bitcoin che quindi comunque è un ciclo cattivello un ciclo difficile e giustamente insomma Bitcoin ne soffre anche lui quindi allora facendo questa analisi ragazzi attenzione quindi a questi livelli di 1930 per quanto riguarda Ethereum sono fondamentali se li supera qui è iniziato un nuovo ciclo trimestrale a quel punto si potrebbe anche ragionare di questo grafico e quindi di Switch come vi dicevo di alcune posizioni che magari sono su Bitcoin anche su ETH perché? perché ETH ha disegnato e sta disegnando quello che è un maxiciclo gigantesco per quanto riguarda Ethereum BTC quindi contro Bitcoin da 4 anni 1350 1400 giorni 1400 giorni ragazzi sono più o meno quasi 4 anni un po' meno comunque diciamo 3 anni è qualcosa comunque sono solitamente identificabili con 3 barra 4 cicli annuali quindi 3 se sono cicli annuali lunghi 4 se sono cicli annuali corti ora il problema dov'è? che questa zona di ombra in cui è entrato proprio nella settimana attuale essendo giugno non vi ricordate abbiamo parlato della questione di giugno come mese importante per le crypto al di là di Bitcoin questa zona d'ombra è una zona in cui può ripartire questa fase ciclica quadriennale cioè una fase di ciclo importantissimo che unisce Bitcoin con ETH è una fase che dura 4 anni è una fase che nella precedente struttura di bull run aveva fatto questi pump e dump giganteschi e anche comunque ragazzi in questa struttura non è da sottovalutare perché questa struttura ciclica nel corso dei suoi 3 anni e mezzo in questo caso ha fatto il 450% di forza relativa su Bitcoin questo è importante andarlo a ricordare ragazzi quindi non stiamo parlando di un 450 su dollaro stiamo parlando di un 450 su Bitcoin che di suo aveva fatto più 300% su dollaro fatevi un po' i vostri conti quindi questo è un grafico di forza relativa di Ethereum contro Bitcoin rinizia un nuovo ciclo di questa rinizia un nuovo ciclo di questa struttura struttura qui ragazzi e a quel punto noi potremmo avere una nuova fase totale magari che costruisce una cosa del genere ancora una volta su Ethereum ora qual è la logica ragazzi questo livello che era la barra di congestione dove qualcuno di voi che mi segue da un po' di anni si ricorda quando siamo entrati qui vi avevo indicato attenzione che la barra di congestione che terrà bloccato Ethereum BTC sarà 0,088 0,055 è incredibile veramente la retta alla perfezione oscillando intorno al suo prezzo di equilibrio però sostanzialmente questo livello di massimo e questo livello di minimo sono molto importanti quindi nel momento in cui io ho un ciclo di questa levatura che deve iniziare a momenti quindi questa è la barra temporale dove ci attendiamo che possa iniziare questo ciclo arriva fino giusto per farvi capire queste sono settimane quindi lungo ottobre 2023 ragazzi quindi questi sono buoni mesi perché questi sono candele settimanali questi grafici vanno realizzati su time frame lunghi perché ragionano in forza relativa non è un trading intraday insomma la questione non è legata a quello e questo tipo di grafico ci impone di tenere sotto controllo questa struttura perché nel momento in cui io ho una struttura del genere che inizia un nuovo ciclo ragazzi allora può breccare questo livello e una volta che lo fa indicherà in maniera corretta al mercato anche da un punto di vista di analisi tecnica ovviamente deve confermarlo in close daily sicuro ma anche weekly direi vista l'importanza di questa barra di congestione che dura da due anni e mezzo indicherà che questa struttura è stata una struttura di accumulazione di ethereum verso bitcoin quindi era una barra di accumulazione questo indica e sdlancia ethereum verso certamente i massimi la zona dei massimi contro bitcoin che è 0.10 0.15 e poi insomma si gioca la partita quindi comunque in forza relativa guardate qui quanto spazio c'è un 20 50 80 punti ricordatevi che comunque i mercati delle cripto man mano che passi il tempo avranno sdlanci sempre più contenuti in termini di volatilità rispetto ai precedenti quindi se qui lo sdlancio vabbè di quando hanno creato è stato l'8000% giusto per farvi capire qui nell'altro ciclo è stato il 400% qui probabilmente avremo magari una struttura che ci fa il 90% circa bene ragazzi allora detto questo quindi forte attenzione agli atteggiamenti di Ethereum proprio nei prossimi giorni in particolar modo questo grafico è fondamentale perché vedete dal minimo del 20 di marzo è iniziata una nuova struttura di ciclo che viene definito un ciclo semestrale da 130 giorni contro bitcoin questa struttura così creata ragazzi è una struttura importante perché intanto non ha breccato questo livello ancora quindi ancora è un punto interrogativo come vi dicevo ancora siamo nell'area grigia ma se già noi superiamo per esempio questo livello di pricing sul rapporto cambio di un BTC che è il massimo 0.07093 quindi direi 0.071 quindi questa zona qui se la superiamo io come vedete mi tengo sempre un po' più l'archetto e ci chiude sopra probabilmente su questo livello è iniziato un nuovo semestrale attenzione perché questo nuovo semestrale potrebbe anche essere il primo semestrale di questa nuova struttura ciclica da 1300 e passa giorni è un po' corto vi dico francamente perché vedete qui siamo sui 1300 però ci può stare perché la struttura per esempio dei cicli avrebbe fatto su Ethereum BTC una fase di questo tipo c'è una sola incongruenza cioè il fatto che il minimo in questione non sia stato molto basso perché doveva essere vicino a questo qui sostanzialmente in questa fase sembrerebbe proprio essere iniziata una nuova struttura che accorpa sostanzialmente almeno due cicli quindi sostanzialmente dovremmo avere una fase che ci porta verso dicembre ottobre dicembre 2023 quindi alla fine di questa zona di grigio e quindi in pratica accorpando le due fasi da qui avremo soltanto delle strutture create in questo modo che in pratica poi porterebbero alla chiusura definitiva in questa zona di tutta la struttura di ciclo quadriennale di ETH però vale la pena monitorare questa fase quindi vedete come i tempi si stanno accorciando e questo è il primo ingresso nella zona grigia di ETH a tempo ovviamente come vi dicevo fino a ottobre però attenzione allo sforamento di 0.071 e va valutato poi ovviamente la resistenza importantissima è 0.085 cosa cambia se ETH ha questa forza per contro Bitcoin ovviamente lo vedremo anche sulla Dominance potrebbe innescare la cosiddetta alt season ma alt season spregiudicata su tutte le crypto oppure indicativa cioè dedicata solo ad alcuni progetti importanti voi cosa ne pensate fatemelo sapere ve lo chiedo di nuovo nei commenti così ci confrontiamo ciao a tutti e buon ponte del 2 giugno grazie a tutti grazie a tutti